Ilari Blasi, Tapiro da striscia la notizia per il bacio con Signorini Tapiro di striscia la notizia a Ilari Blasi per il bacio con Alfonso Signorini al grande fratello Vip. Ennesimo Tapiro d'oro per Ilari Blasi La conduttrice è stata raggiunta dall'inviato di striscia la notizia Valerio Staffelli per essere stata baciata con troppo entusiasmo da Alfonso Signorini. I due si sono scambiati un nuovo bacio nell'ultima puntata del grande fratello Vip. Le diamo un Tapiro perché è stata sfruttata, per la proprietà transitiva Signorini voleva baciare Totti ha spiegato Staffelli alla presentatrice delle Iene. E la Blasi ha risposto, lo so che lui vuole arrivare a Francesco. Speriamo non se ne approfitti ancora. Mancano ancora quattro puntate, quindi è lunga ha aggiunto Staffelli. Che, per concludere il servizio, ha a sua volta baciato Ilari. Che, per concludere il servizio, ha a sua volta.